Arriva Cotticelli, inizia una nuova era per la sanità calabrese, previsto per domani l'insediamento del nuovo commissario per l'attuazione del piano di rientro. Il generale dei carabinieri Saverio Cotticelli, ad un mese dalla sua nomina in consiglio dei ministri, subentra al predecessore Massimo Scur e sarà affiancato dal subcommissario Thomas Scheil. Bassa Trivelle, dopo le promesse tradite sul megagasdotto TAP, il governo lega 5 stelle, di nuovo nella bufera delle polemiche per l'estrazione degli idrocarburi nell'Oionio, in campo gli ambientalisti e non solo. Emergenza casa, a Reggio Calabria rimonta la protesta dei cittadini che chiedono l'assegnazione di un alloggio popolare e mentre il comune continua a tacere e a prendere tempo, davanti al municipio ecco striscioni e catene. Befana assettata, giorni da incubo per Vivo Valencia, le frazioni e alcuni centri vicini a causa di un guasto alle condotte poi riparato dalla Sorical, disagi per migliaia di famiglie, numerose attività commerciali costrette alla chiusura. Al freddo e al gelo, nel capoluogo di regione scuole senza riscaldamenti e bambini costretti a svolgere le lezioni con guanti e piumini. A Cosenza la casa di San Francesco diventa il rifugio per senza tetto che vogliono ripararsi dal freddo. Bentrovati con l'informazione di la Cineus 24 e benvenuti all'edizione serale del nostro Tg. In apertura la notizia dell'arrivo in Calabria del nuovo commissario alla Sanità Saverio Cotticelli che subentra al predecessore Massimo Scura. È previsto infatti nella giornata di domani l'insediamento del nuovo commissario per l'attuazione del piano di rientro della Sanità regionale. Lo ricorderete, il generale dei Carabinieri Cotticelli è stato nominato lo scorso 7 dicembre dal Consiglio dei Ministri e sarà affiancato dal subcommissario Thomas Scheil che prima della pausa natalizia ha già avuto alcuni incontri con i vertici del Dipartimento regionale tutela della salute. La nuova struttura commissariale ha avuto dal Consiglio dei Ministri il mandato di realizzare 24 interventi per attuare il piano di rientro della Sanità calabrese. Tra gli interventi prioritari ci sono, si legge nella delibera governativa di nomina, l'adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei servizi essenziali di assistenza agli standard di riferimento e il completamento e attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete di emergenza urgenza. E adesso andiamo alla polemica rovente che investe il governo sul tema delle trivellazioni sul Mar Ionio, in Calabria levata a discudi degli ambientalisti e non solo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera all'iter per nuove trivellazioni nello Ionio. Lo scorso 31 dicembre, infatti, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse il visto del vicepremier Di Maio, che autorizza tre nuovi permessi di ricerca petrolifera su una superficie complessiva di 2.200 km2 a favore della società americana GlobalMed. L'indagine del sottosuolo prevede anche l'uso dell'airgun, le famigerate bombe d'aria e sonore. Non può essere questa la politica di sviluppo del nostro paese, la devastazione delle coste. Noi siamo sul piede di guerra contro queste scelte sbagliate del governo che continua sulla via sbagliata, così come ha fatto con l'Ilva di Taranto, così come sta portando avanti le trattative scollatap. Ci sentiamo traditi. Infatti noi manteniamo ferma la nostra posizione che abbiamo assunto, ripeto, anni fa e perché non può essere alla guida di un governo qualcuno che dice di ratificare obbligatoriamente le scelte sbagliate fatte dai governi precedenti. Ma la corsa all'oro nero nei fondali ionici è un pallino che da sempre stuzzica le grandi compagnie petrolifere mondiali che hanno tentato, attraverso tutti i governi che si sono succeduti alla guida del paese, di ottenere sempre maggiori autorizzazioni per sfruttare le risorse del sottosuolo. Il 17 aprile 2016, grazie all'impegno dei movimenti notrivi, degli ambientalisti e delle regioni del sud Italia, si giunse al referendum abrogativo delle autorizzazioni per proseguire la ricerca di idrocarburi lungo le coste italiane, ma la consultazione non raggiunse il quorum. Tutto però si bloccò grazie ad un ricorso presso il Consiglio di Stato, presentato all'epoca dalla regione Calabria, che contestava alcuni rilievi di tipo amministrativo sui permessi rilasciati dall'allora governo Renzi. Oggi l'istanza è stata rigettata ed il vicepremiere del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, da sempre schierato a sostegno della battaglia Notriv, ha dato il via libera ad una nuova accensione delle trivelle nell'Oionio. Marco Lefosse per la Cineus 24. E adesso la cronaca giudiziaria con un aggiornamento sul procedimento lande desolate. Il Tribunale delle Libertà di Catanzaro ha disposto gli arresti domiciliari per l'indagato cardine dell'inchiesta all'imprenditore Edile Giorgio Ottavio Barbieri, realizzatore dell'impianto scistico di Loriche e dell'aviosuperficie di Scalea, che si trovava in carcere. Ricordiamo che nell'inchiesta che coinvolge 17 persone, indagato anche il Presidente della Regione, Mario Liverio, accusato di abuso d'ufficio e corruzione, è attualmente sottoposto ad obbligo di dimora nella sua San Giovanni in Fiore. E adesso una notizia di cronaca. Un neonato in pericolo di vita è stato trasferito con urgenza da Reggio Calabria a Firenze. Il piccolo paziente di appena un mese di vita, i genitori e l'equip medica sono partiti dalla Calabria a bordo di un Falcon 50, un aereo messo a disposizione dell'aeronautica militare italiana che li ha trasportati all'ospedale pediatrico Meyer per le necessarie cure. Il piccolo, a quanto si è appreso, è stato tratto in salvo. E rimonta la protesta a Reggio Calabria dei tanti cittadini che hanno richiesto l'assegnazione di una casa popolare. Si sono incatenati al comune di Reggio Calabria i tanti cittadini che hanno fatto richiesta di assegnazione di un alloggio popolare ma che ancora dopo tanti mesi non hanno ricevuto risposte. In molti vivono in condizioni economiche disagiate e rischiano di finire in mezzo ad una strada perché sfrattati e hanno diritto quindi ad avere una casa come prevede la legge sull'emergenza abitativa. In catena è anche il signor Domenico Pellegrino che da giugno ha fatto istanza e da domani non avrà più un tetto sopra la testa perché deve liberare l'appartamento in cui vive con la compagna. Un terribile incidente lo ha reso invalido e non lavorando non riesce più a pagare l'affitto, tanta è la rabbia come l'esasperazione. Sarò sfrattato, sono sulla strada e gli piace vedermi alla stazione, dormire insieme a Barboni. Mi sono legato qui apposta oggi appunto per questo motivo perché non vengo considerato. Io volevo una risorsa per poter vivere e la risorsa purtroppo è un piccolo appartamento, cosa che mi state negando fino all'ultimo, cioè volete vedermi sbattuto sulla strada. A me e la mia compagna non è una cosa corretta signor sindaco. Le proteste sono in corso da mesi, le associazioni che fanno parte dell'osservatorio sul disagio abitativo chiedono risposte immediate come la mappatura sugli immobili esistenti, lo scorrimento della graduatoria per chi ha vinto il bando e soprattutto il ripristino dei fondi. Addirittura gli 11 milioni che servivano per dare una risposta vengono stornati due anni fa e che invece servivano per dare risposta a chi ha vinto il bando e a chi è fuori del bando. Manutenzioni non vengono fatti, i cambi non vengono fatti, sono previsti dalla legge. Il settore che ha competenza sull'edilizia pubblica dice di essere al lavoro, però di fatto prende ancora tempo e nessuna certezza neanche oggi è stata data. Stiamo procedendo anche col Pometro a un progetto di condivisione delle banche dati che permetterà di avere la disponibilità di una mappatura più penetrante sul territorio in modo da verificare la disponibilità di altri alloggi. È anche vero che è molto importante il problema dell'occupazione abusiva degli alloggi. Angela Panzera per la Cineus 24. E adesso andiamo a Vibo Valencia dove i cittadini sia del centro che delle frazioni hanno vissuto un'epifania davvero complicata a causa dell'assenza d'acqua dai rubinetti. Avrà portato dolciumi e carezze, in qualche caso carbone, non ha di certo portato acqua, già perché Vibo Valencia è il centro, le frazioni, ma anche alcuni paesi vicini hanno vissuto un'epifania nella sete. Dal 2 siamo senza acqua, queste saranno delle gocce che ci sono nelle tubature ma il bagno non va. L'emergenza idrica è rientrata solo stamattina. I tecnici della Sorica l'hanno lavorato fino a ieri sera per riparare un doppio guasto lungo le condotte nel territorio delle Preserre che di fatto ha interrotto l'erogazione in buona parte della vetusta rete idrica che serve il capoluogo di provincia e non solo. Ho dovuto aspettare per farmi la barba ieri sera, dopo tre giorni. Riparato il guasto restano i problemi. C'è stato chi ha vissuto quattro giorni senza acqua, giorni difficili da sopportare, un disagio per la popolazione, un danno ingente per alcune attività commerciali. Eccolo il cartello che campeggia ad alcuni giorni davanti a una saracinesca chiusa di un bar, chiuso per mancanza d'acqua. Il titolare ci invia una foto per mostrarci come ha dovuto lasciare l'attività sul lavello, tazze, tazzini e piattini rimasti sporchi. Chi risarcirà il signorenzo dal mancato introito? E come lui tanti altri che non hanno potuto lavorare. Ha avuto difficoltà anche il gestore di questa pizzeria, lui che l'acqua la utilizza solo per i servizi igienici. Io personalmente con quest'acqua non ho fatto male l'impasto. Da stamattina se non mi sbaglio è arrivata nera. Diceva perché abitiamo qua vicino, quindi in casa è arrivata nera. E stamattina come è arrivata l'acqua è tutta gialla. Il colore rame. Una schifezza. La grande sete a Vibo è passata, ma molti temono che il problema possa ripresentarsi, anche perché il sistema idrico, qui ci vuole, fa acqua da tutte le parti. Recentemente è stato infatti accertato come il 60% del prezioso liquido si disperda nelle condutture. Già, così ricchi d'acqua, eppure così assetati. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24. Da un'emergenza all'altra a Catanzaro si parla di carenza del personale del 118. In totale noi abbiamo 26 medici a tempo indeterminato che sono dipendenti dell'ASP e 34 a tempo indeterminato che sono, diciamo, con rapporto di lavoro di tipo convenzionato, quindi ne abbiamo medici. Le postazioni sono 16 e queste 16 postazioni prevedono circa 6 medici per ogni postazione, ecco perché abbiamo carenza numerica di medici del 118. Il 31 sono quelli che ci mancano. Emergenza medici al 118 dell'ASP di Catanzaro, un organico notevolmente ridotto che non consente di offrire una risposta appropriata in caso di emergenza-urgenza al territorio. Dopo la richiesta del direttore della centrale operativa per l'area centrale della Calabria, Antonio Talesa, di incrementare l'organico, l'avvio delle procedure di immissione di nuove figure, che però non ha portato i risultati sperati registrando la mancata disponibilità dei medici di lavorare al 118. Qual è il motivo? Facile e intuibile. Il tempo determinato ovviamente non è appetibile di sua natura. È ovvio che il medico è un'offerta di tipo monopolistica, nel senso che solo loro possono andare a rivestire quei ruoli, per cui è chiaro che possono tranquillamente attendere un bando a tempo indeterminato, costringendo di fatto l'ASP a ricorrere a questo strumento che garantisce ovviamente maggiormente il lavoratore, cioè in questo caso il medico. Quali sono i provvedimenti che avete adottato? Per far fronte a questa problematica abbiamo pubblicato ora un avviso appunto supplettivo che dovrebbe garantirci maggiore disponibilità di adesione da parte dei medici. La situazione è comunque sotto controllo perché il direttore dell'assurma è abbastanza preciso nella rotazione dei medici. Possiamo dare garanze dal punto di vista dell'assistenza nei confronti dei cittadini. Rossella Garati per la CNews24. Restiamo a Catanzaro, ritorno in aula decisamente non all'insegna del tepore per i bambini delle scuole, termosifoni inefficienti a Ponte Piccolo e totalmente spenti a Siano. È rientrata a Catanzaro l'emergenza a gelo. La colonnina di Mercurio ha ricominciato a segnare temperature nella media di stagione ma nelle aule scolastiche si continua a battere i denti. Fa freddo, come è evidente. Purtroppo è difficile lavorare in questa condizione perché per quanto i termosifoni siano attivati comunque risultano tiepidi e comunque la temperatura all'interno della classe è rigida. I bambini hanno difficoltà a svolgere le normali funzioni. Siamo nella scuola primaria Andrea Gagliardi. Qui non sono solo gli alunni a seguire le lezioni con indosso giubbini e guanti ma anche i docenti hanno adottato la medesima misura per affrontare un'intera mattinata di studio in aule gelate. Fa freddo questa mattina in aula? Abbastanza. È stato un ritorno energetico, abbastanza freddo. I ragazzi come sono nelle classi? Sono infreddoliti, non riescono a scrivere per cui ho dovuto mettere qualche bambino vicino a qualche termosifone e fargli mettere il giubbino perché non riescono. Maestra abbiamo freddo, maestra abbiamo freddo. Quindi io non so cosa fare più di questo. Per la verità i termosifoni risultano attivi ma senza un'adeguata manutenzione non sembrano nelle condizioni di garantire un clima adatto a bambini in tenera età. E mentre nel quartiere stadio si cerca ugualmente di resistere al freddo, a Siano alcuni genitori hanno deciso di riportare i propri figli a casa. Termosifoni spenti anche nella secondaria di primo grado, dove anche qui i docenti svolgono le lezioni con giacconi pesanti. Luana Costa per la Cineus 24. Nelle fredde notte invernali anche a Cosenza si è registrato un aumento dell'affluenza di bisognosi nelle strutture di ricovero per i senza tetto. Alla casa San Francesco ha allestito un salone di accoglienza straordinaria. Se fosse un albergo si parlerebbe di tutto esaurito. Le temperature polari spingono le persone disagiate a trovare un riparo e per evitare che qualcuno debba trascorrere la notte all'adiaccio. I responsabili della Fondazione Casa San Francesco d'Assisi di Cosenza hanno allestito ulteriori posti letto nel salone di ingresso rispetto alla disponibilità ordinaria. Non sarà un hotel a 5 stelle ma i comfort non mancano. Ci sono coperte, pasti e bevande calde e il calore umano dei volontari della struttura. In questi giorni, nello spazio nel quale ci troviamo adesso, abbiamo attrezzato dieci brande sulle quali comunque trovano riposo durante le ore della notte altre persone che diversamente sarebbero rimaste in strada. Insieme a questo servizio stiamo distribuendo già da un po' di tempo anche dei sacchi a pelo termici e oltre che dispensare coperte, indumenti pesanti a tutti coloro che ne fanno richiesta. Il piano di assistenza invernale è già operativo dallo scorso mese di novembre rafforzato nelle ultime ore anche in sinergia con altre associazioni operanti in città. Noi non facciamo un servizio di unità di strada, si occupano di questa attività altri enti e altre associazioni. In questi giorni era la Croce Rossa a garantire, la sezione di Cosenza a garantire un presidio notturno in strada. Ci siamo attivati perché potessimo unire i servizi, quindi quanti di loro troveranno persone in strada, potranno direttamente accompagnarli qui a Casa San Francesco. Salvatore Bruno per la CINUS24. Nell'ambito di un progetto ambientale, l'amministrazione comunale di Taurianova aveva installato tre distributori per l'erogazione gratuita dell'acqua potabile. Quello collocato nella frazione di San Martino è stato distrutto dopo 20 giorni. Adesso il comune, in dissesto, dovrà sborsare diverse migliaia di euro per il ripristino. Ogni tassello è importante per ricostruire il senso di comunità, per riavvicinare la politica ai cittadini. In questa direzione si è mossa l'amministrazione comunale di Taurianova, intraprendendo un interessante progetto per l'ambiente, che prevede, tra l'altro, l'installazione di tre casette per la distribuzione gratuita di acqua potabile. Una di queste è stata collocata nella popolosa frazione di San Martino, ma dopo poco più di 20 giorni la macchina è stata distrutta. Questo rientra in un progetto più complessivo, dal tema meno rifiuti, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, per 800 mila euro, dove tra le tantissime attività che sono state previste una era quello dell'inserimento delle case dell'acqua nelle comunità di Taurianova, San Martino ed Amato. Questo prevede proprio l'utilizzo ad ogni famiglia di una scheda per approvvigionarsi di acqua liscia in modo gratuito e acqua gassata con un minimo di costo. Un'idea che era stata accolta con entusiasmo dai cittadini di San Martino. In molti, infatti, avevano già ritirato la loro scheda in comune per poter attingere l'acqua dal distributore. Un bene per tutti i cittadini. Vederla vandalizzata dopo così poco tempo è veramente un dispiacere per chi amministra, per chi ha cuore, la crescita di una comunità. I costi di queste case dell'acqua non sono costi bassi perché parliamo di circa 25 mila euro per ogni casa dell'acqua quindi ora ripristinarla, rimetterla a sesto sarà il nostro compito però con i limiti che abbiamo anche del bilancio comunale. Rimaniamo alla cronaca. Era sfuggito alla cattura nell'ambito dell'operazione della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro denominata Tissifone contro le cosche di Isola Caporizzuto nel Crotonese ma per Antonio Nicoscia, 41 anni, esponente di spicco dell'omonimo clan figlio del boss Pasquale, Nicoscia ha detto Macchietta, attualmente detenuto la latitanza si è conclusa nella serata di ieri quando gli agenti della squadra mobile di Crotone lo hanno catturato al termine di una caccia all'uomo con perquisizioni e controlli nella zona di Isola Caporizzuto. Andiamo avanti con la politica. Entra nel vivo, arrende la campagna elettorale per il voto amministrativo. Nei giorni scorsi riunione di tutte le forze politiche in campo convocata dal movimento Cambiamenti. Vediamo allora come è andata. Avrà anche avviato una rivoluzione politica come trionfalmente riportato in un comunicato stampa ma di quale rivoluzione si tratti per il momento non si è capito granché. Per la verità non si è capito neppure lo scopo dell'iniziativa organizzata da Cambiamenti aggregazione formate in particolare da due ex amministratori Amerigo Castiglione e Vittorio Toscano quest'ultimo già componente della Giunta Manna per quasi tre anni e da esponenti della società civile i fratelli Luciano e Michele Bonanno ed Emanuele Rubio. Nelle intenzioni c'era forse la volontà di trovare un filo conduttore una comunione di intenti con le altre forze politiche ostili all'attuale governo della città di Vende finalizzata a costruire una formazione una sorta di terzo polo da opporre in campagna elettorale al sindaco uscente ma anche alla compagine di Sandro Principe impegnato da tempo dietro le quinte sulla propria candidatura a primo cittadino un terzo polo in grado di concorrere con la forza dei numeri ad uno dei due posti del più che probabile ballottaggio. Una sorta di unione sulla base di un contratto un po' come sta succedendo a livello nazionale tra Lega e 5 Stelle? No, veramente è tutto il contrario perché mentre Lega e 5 Stelle hanno fatto un contratto all'indomani di un risultato che li vedeva contrapposti noi stiamo cercando di invertire la tendenza quella di arrivare a una sintesi prima quindi costruire insieme un percorso un programma che ci vede già uniti da prima e non perché costretti dai risultati elettorali. Poiché i cambiamenti ha comunque una posizione decisamente critica rispetto all'operato di Marcello Manna e della sua attuale maggioranza molti si sono chiesti come mai alla riunione fosse stato invitato anche l'assessore Domenico Ziccarelli il quale dopo aver incassato i colpi bassi di Mimo Talarico e dello stesso Luciano Bonanno elegantemente e senza alcuna polemica si è tolto dall'imbarazzo salutando tutti e augurando buon lavoro ai presenti. Io sono dall'altra parte cioè poi parliamo fra sordi perché ognuno di noi già c'è un'idea cioè che ci prendiamo in giro come diceva lui le ali fino alla fine cioè penso che vi vede chiedo scusa ma in un'altra occasione ci sarò e sarò lieto di esserci buon lavoro. Anche il tentativo di coagulare le opposizioni sotto uno stesso ombrello ha riscosso scarso successo nessun passo indietro da Sergio Tursi Prato il primo ad annunciare la sua candidatura a sindaco forte del sostegno di quattro liste mentre l'idea delle primarie di coalizione lanciata dal leader di Attiva Rende Mimmo Talarico è stata subito respinta e rispedita al mittente. Insomma la strada verso un eventuale progetto politico di aggregazione si presenta lunga e complicata mentre le elezioni sono praticamente dietro l'angolo. Salvatore Bruno per la Cineus 24 Ci spostiamo a Cerisano paese delle Serre Cosentine dove si rinnova l'antico rito dell'acqua d'ara. Non si può pretendere di parlare della cucina tipica calabrese senza accennare all'antichissimo rito dell'acqua d'ara che sembra abbia origine nei tempi lontanissimi della Magna Grecia nell'incantevole borgo di Cerisano paese delle Serre Cosentine si rinnova questo rito che nel resto della Calabria con il passare degli anni è andato scemando. Fino a qualche anno fa infatti non esisteva un nucleo familiare che non allevasse un maiale per nutrirsi delle carni di esso carni gustosissime che costituivano il primo fabbisogno energetico giornaliero. La macellazione del maiale diventava motivo di festa che andava avanti per almeno tre giorni e culminava davanti a un grosso pentolone appunto a Quadara per gustare quelli che erano i resti del maiale. Qui a Cerisano la festa dura solo un giorno ma è per tutti gli abitanti del paese e non solo. Soddisfatti i tanti partecipanti che hanno accolto con interesse l'invito. Era consuetudine inoltre che all'uscita dell'Acqua dara un buon piatto di cotiche e frisuli venisse portati in assaggio ai parenti più stretti. Nel corso della serata non mancava l'intermezzo festoso degli strinari i quali, informati della festa, si autoinvitavano ma nel 2019 anche queste figure stanno sparendo e la musica cambia. Stefania Belvedere per la CNews24. Era questo il nostro ultimo servizio vi ricordiamo che potete rivedere il nostro telegiornale su www.lactv.it Una buona serata. 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia La CNews24 Edizione giorno alle 14 e 15 ed edizione sera alle 20 e 30 La CNews24 La Calabria che fa notizia